Buonasera a tutti e benvenuti. Intanto grazie per essere qui a questo nuovo appuntamento con gli Aperitech. Per chi non lo sapesse, gli Aperitech sono un circuito di eventi creato da CodeMotion in collaborazione con la Tech Community ed il Venture Group. Lo scopo degli Aperitech è quello di garantire un supporto agli sviluppatori ed una crescita professionale. Qui di seguito potete vedere i vari canali di CodeMotion in modo tale da rimanere sempre aggiornati su quelle che sono tutte quante le iniziative. Vi invito a visitare il sito CodeMotion.com dove sarà presente la video platform in cui ci sono caricati tutti quanti i video creati da CodeMotion durante i vari eventi, meetup e conferenze. I video sono filtrabili per topic e preferenze. Ricercare i video è molto semplice. Basta digitare la parolina all'interno della barra di ricerca o utilizzare il menu a tendina. È presente inoltre la sezione EduPath, diciamo un raccoglitore di una serie di brevi video incentrati su macroargomenti specifici in modo tale da andare a migliorare le vostre skills. Lasciatevi ispirare quindi da tutte queste playlist create da CodeMotion e superate i vostri limiti. Attraverso il dev calendar e il sito community.codemotion.com potete rimanere sempre aggiornati su quelli che saranno i prossimi eventi. GitHub Stories. Cos'è GitHub Stories? È un evento, è uno spazio pensato per dare la possibilità a programmatori e programmatrici che diciamo rimangono un pochino più in ombra ma che contribuiscono ogni giorno a migliorare tutto il mondo open source quindi della programmazione. E nel prossimo appuntamento GitHub Stories da 0 a 5k stars su GitHub che sarà il 5 aprile alle ore 19 e ci sarà anche la live su Twitch ci sarà come ospite Davide Mandelli e a moderare Emanuele Bertolesi. Poi ci sono gli eventi Devs Book Club è un appuntamento mensile in cui verrà presentato un libro tech. Nel prossimo evento, il 13 aprile alle ore 19 ci sarà come ospite Fabio Mora ed il suo libro Devops in cui verrà intervistato per scoprire tutti quanti i vari retroscena aneddoti e i motivi per il quale è stato scritto il libro stesso. Altri ospiti saranno Savino Carlone Arnaldo Morena ed Andrea Maglietta. Infine, in ultimo ma non per importanza Devcast serie Backend. Cosa è? Sono una serie di appuntamenti che si terranno ogni mercoledì nel mese di aprile. Il primo mercoledì 13 aprile l'ultimo 27 aprile in cui, diciamo, si farà un viaggio per scoprire che cos'è il web 3.0 e tutta la tecnologia blockchain. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento. Buonasera a tutti eccoci qui aspetta, manda lo streaming scusate vabbè quello vediamo aspetta che lo devo mettere scusate e vabbè la vedo si 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 va chiusa qui aspetta l'altro aspetta aspetta niente vabbè fa niente va bene va bene buonasera a tutti benvenuti a un nuovo appuntamento di graph roma diciamo noi siamo un meetup diciamo di tutto quello che riguarda diciamo tutto quello che riguarda i dati connessi graph database eccetera facciamo un meetup praticamente regolari e il meetup è organizzato da da queste quattro persone diciamo ci sono io c'è Gabriele c'è Marco e c'è Piero qui trovate i nostri twitter handle è il libro ok qui adesso non vedete qui sulla slide ma sta proiettando in live diciamo facciamo parte del manning user group dove praticamente come come affiliati di di manning abbiamo a disposizione dei libri e quindi ogni diciamo edizione del nostro meetup facciamo delle delle estrazioni e quindi per chi diciamo partecipa alla serata sia in presenza che là e vestiamo dei libri quell'ultimo qual è? e questi qui sono un po' dei nostri riferimenti dove ci trovate e sia su su canali sia su twitter su github dove a volte condividiamo dei dei progetti che facciamo workshop che abbiamo fatto in passato e adesso lascio la parola a Valerio che ringrazio che ci parlerà di ontology based data management grazie e buona serata intanto buonasera allora buonasera a tutti sono Valerio Santarelli e sono il CTO di Obedia Systems e questa sera durante l'intervento vi introdurrò a una tecnologia che si chiama ontology based data management prima di iniziare volevo dire giusto due parole sulla nostra azienda Obedia Systems è una start up innovativa della Sapienza dell'Università di Roma che è stata creata nel 2017 praticamente partendo dal gruppo di ricerca che da una decina di anni all'epoca si occupava di knowledge management data management e che quindi ha sviluppato nel corso del tempo questa tecnologia di cui vedremo e nel 2021 Obedia Systems entra a far parte del gruppo Alma Wave Allora la missione della nostra della nostra azienda è quella come dicevo quindi di offrire soluzioni per la gestione di dati aziendali che si basano principalmente sulle tecnologie semantiche e sull'AI quindi parliamo di ontologie parliamo di knowledge graph diciamo al servizio dell'azienda per rendere più efficiente ed efficace la gestione dei loro dati e quindi vedremo questa sera durante l'intervento appunto un ontology based data management quali sono i suoi vantaggi quindi perché adottare questa tecnologia quali sono le risposte che può dare alle sfide del data management vedremo il diciamo la tecnologia lo strumento che sta dietro questo diciamo a questo approccio che si chiama Mastro e una serie di strumenti a corredo quindi perché abilitano questa questa tecnologia e poi dei casi d'uso quindi sì partiamo da da introdurre cos'è l'ontology based data management e quali sono le sue caratteristiche i suoi vantaggi principali allora in questa slide diciamo vediamo una serie di parole che rappresentano un po' quelle che sono le sfide del data management in generale quindi parliamo di accesso al dato integrazione qualità pubblicazione di dati in formato aperto in formato link di sicurezza eccetera insomma una serie di sfide che chiunque tratta dati deve cercare in qualche modo di affrontare e un diciamo alla base in effetti di tutte queste sfide c'è un problema particolare che è quello della data preparation cioè della preparazione del dato poi a essere fruito attraverso dei servizi qui c'è una citazione di qualche anno fa che però è interessante perché diciamo emette evidenzia la necessità di poter facilmente accedere manipolare arricchire e combinare dati che vengono da diversi sorgenti no e quindi questo diciamo in poche parole è la data preparation qual è la situazione in cui ci si trova spesso è questa che vediamo raffigurata in questa in questa slide ovvero che sistemi informativi richiedono l'uso tipicamente di sorgenti di date che possono essere molto diversi e tra di loro sia nei contenuti sia nella forma no e quindi ciascun sistema costituisce deve costituire la propria rappresentazione di queste informazioni quindi alla base prima ancora di arrivare a dare dei servizi di diciamo di management dell'informazione c'è un problema di integrazione del dato quindi in qualche modo riuscire a dare una vista uniforme di dati che vengono da queste sorgenti diverse e anche di pulizia e quindi di data cleaning no quindi cercare di riconciliare tra di loro dati che vengono da sorgenti diverse quindi insomma record link agent di resolution sono solo due esempi di questo tipo di problematica dall'altra diciamo l'altra faccia della medaglia è quella che spesso diverse applicazioni anche all'interno di un unico sistema informativo in generale hanno necessità di estrarre viste diverse in funzione dei servizi che offrono a partire dagli stessi dati quindi creare strutture diverse e con livelli di astrazione diversi e questo è un processo che diciamo ha presente delle difficoltà sia da un punto di vista computazionale sia da un punto di vista concettuale perché spesso c'è una c'è una distanza semantica quindi di significato molto diciamo ampia tra il dato originario e la visione che l'applicazione necessita del dato stesso quindi qual è lo scenario abbiamo diverse sorgenti di dati eterogene sia nel contenuto che nella forma e c'è bisogno di creare diverse viste quindi diverse visioni di questi di questi dati grazie ok e questo diciamo evidenzia la difficoltà il costo appunto della data preparation sono stati fatti una serie di studi che hanno fatto emergere come in effetti la maggior parte del tempo impiegato dai data scientists nel trattare l'informazione proprio spesa in questa attività di data preparation e quindi oltre a essere la cosa che impiega più tempo è anche quella che ci si diverte meno a fare quindi cerchiamo delle soluzioni che la rendono in qualche modo più semplice e più meno time consuming la nostra proposta in questa direzione è un approccio alla preparazione dell'informazione poi vedremo anche all'erogazione dei servizi direttamente diciamo verso gli utenti finali quindi alla data preparation la modellazione della gestione dei dati che si basa sull'adozione di un modello di dati unificato che quindi fornisce una vista integrata di tutte le sorgenti sottostanti e agevola la creazione e la gestione delle viste sui dati stessi quindi riprendendo l'immagine di prima tra lo strato dei dati e lo strato di queste viste c'è questo modello di dati unificato ed in particolare questo modello di dati vediamo che è un'ontologia e quindi chiamiamo questo approccio alla gestione del dato ontology based data management questa qui è diciamo la definizione che a noi piace di dare di questo tipo di tecnologia ovvero una metodologia un paradigma di data virtualization che permette di accedere di integrare di verificare la qualità del dato attraverso un'ontologia o un knowledge graph e cos'è un'ontologia beh un'ontologia è un modello concettuale che vuole rappresentare come è fatto un certo dominio a cui afferiscono i dati quindi deve essere semanticamente ben definito e deve essere espresso formalmente quindi deve essere interpretabile sia da diciamo dall'uomo che dalle macchine e nell'OBDM l'ontologia quindi questo modello serve come diciamo strato che permette di erogare i servizi di data governance che vedremo formulando direttamente i requisiti informativi in funzione dell'ontologia stessa questo quindi rende più facile sia formulare requisito quindi in qualche modo fare domande sia capirne le risposte quindi tornando allo schema in effetti il modello unificato dei dati è proprio l'ontologia stessa quindi che si frappone tra le sorgenti di dati e le viste quali sono le caratteristiche principali dell'ontologia based data management abbiamo cercato qui di elencare proprio per punti allora innanzitutto l'astrazione ovvero con questo tipo di approccio non è necessario sapere come è fisicamente strutturato il dato per accedere quindi ci si è libera dalla necessità di conoscere come e dove i dati sono organizzati la semplicità perché come appena detto si esprimono i requisiti informativi quindi si fanno le domande in termini non dei dati nella loro rappresentazione fisica ma in termini del modello ontologico che è espresso attraverso un linguaggio che è più vicino a quello del business non a quello dell'utente finale efficienza perché riduce il tempo totale in cui si ottengono le risposte che servono per fare magari delle scelte strategiche sia di business e quindi questa riduzione dei tempi abbatte anche il costo di accesso all'informazione e agilità perché la nostra metodologia non richiede uno spostamento fisico del dato e vedremo meglio cosa intendiamo di questo e incrementalità perché è un approccio chiamiamolo pace to go oppure un approccio incrementale sia alla costruzione dell'ontologia che alla mappatura dell'ontologia sui dati quindi si può piano piano andare a costruire e quindi accedere ai dati senza necessitare di enormi tempi di fermo delle operazioni prima di andare al regime allora questa che vediamo in figura è molto in modo astratto l'architettura di un sistema di ontology based data management quindi c'è l'ontologia quindi lo strato ontologico che è appunto il compito di descrivere formalmente il patrimonio informativo c'è lo strato dei dati che è in qualche modo quello che è già presente nelle aziende quindi sono i dati aziendali e poi in meso diciamo a mediare tra l'ontologia e lo strato dei dati c'è quello che chiamiamo lo strato di mapping ovvero uno strato che serve a collegare i dati nei database con l'entità dell'ontologia e quindi attraverso l'ontologia vengono erogati i servizi di gestione dell'informazione e allora cosa sono i mapping i mapping sono una serie di regole possiamo pensarle così che definiscono delle corrispondenze tra i dati che sono nelle sorgenti e appunto l'entità dell'ontologia quindi ciascuna mapping collega attraverso una query proprio sulla base di dati un determinato insieme di dati con una certa entità dell'ontologia in questo caso ad esempio vediamo assumiamo che stiamo parlando di un'ontologia quindi di un dominio delle navi ci saranno le navi con i loro codici e il loro nome nel db c'è una tabella magari che raccoglie queste informazioni e quindi c'è una query che proprio estrae queste informazioni e le mappa sull'entità stesse quindi tra lo strato dei dati e lo strato dell'ontologia c'è questo strato di mapping che permette appunto di fare questi collegamenti e di colmare la distanza che c'è tra l'organizzazione e la struttura fisica del dato e invece la visione concettuale del dominio che offre l'ontologia ora quali sono i vantaggi di questo approccio alcuni li abbiamo già anticipati ma c'è innanzitutto un aspetto di condivisione e anche di standardizzazione sia dei processi che dei concetti del dominio di cui si sta trattando che in qualche modo forzato dal dover costruire un'ontologia di dominio quindi l'adottare l'ontologia come un perno centrale della gestione del dato costringe in qualche modo a mettersi d'accordo sul significato dell'entità di cui si ha a che fare nei processi di gestione del dato la costruzione di questo dell'ontologia quindi di questo modello permette di integrare concetti che afferiscono magari domini diversi quindi appunto c'è un aspetto di integrazione del dato all'interno di un'unica vista astratta che è fondamentale e in qualche modo quindi abilita anche la definizione di quelli che in effetti possono essere considerati i termini che fanno parte del glossario di business ciascun diciamo in un dominio aziendale si hanno a che fare con determinati concetti questi concetti vengono rappresentati nell'ontologia con i loro metadati quindi con le informazioni che ne definiscono il significato e vanno a costruire quindi il glossario di business del dominio aziendale e essendo l'ontologia un modello formale diciamo può essere utilizzato sia dall'utente finale per capire di cosa si sta parlando quindi quali sono le entità del dominio sia dalle macchine per ragionarci vedremo un esempio permette di integrare il dato abbiamo visto lo strato di dati sottostante può essere molto eterogeneo ma tutto afferisce diciamo all'interno del perimetro dell'ontologia quindi si supera in qualche modo la visione a silos oppure application centric che spesso viene troviamo nei sistemi informativi aziendali e aspetto fondamentale l'accesso al dato avviene attraverso l'ontologia quindi le query si fanno non sui dati nella loro diciamo struttura fisica ma attraverso l'entità dell'ontologia e questo adesso vedremo come funziona da un punto di vista tecnico quello che diciamo è fondamentale capire fin dall'inizio è che il punto è che noi formuliamo il requisito quindi la query nei termini dell'ontologia quindi proprio nei termini del linguaggio di business e c'è sotto un motore che riesce a ragionare su queste query e andare ad estrarre tutti i dati che sono fondamentali o comunque rilevanti rispetto all'informazione che è stata richiesta si possono definire anche dei processi anche automatici di verifica di qualità è data attraverso l'ontologia perché l'ontologia contiene al suo interno una serie di regole che in qualche modo possono essere interpretate come regole di business cioè i dati che fanno parte di un certo dominio devono comportarsi in un certo modo e queste regole appunto sono scritte nell'ontologia e in ultimo è anche una tecnologia che facilita molto la produzione e la pubblicazione di linked open data in particolare insomma al massimo livello di qualità ovvero le 5 stelle vediamo adesso un po' più nel dettaglio quali sono precisamente il modo in cui lo BDM riesce a rispondere alle sfide del data management partendo dalla data integration quindi l'integrazione di dati abbiamo visto come l'ontologia fornisce questa visione virtuale unificata e astratta del dominio quindi di un certo patrimonio informativo sotto la quale ci possono essere dati che vengono da diverse sorgenti e come lo strato di mapping che eventualmente si può accoppiare anche a un ulteriore strato di data virtualization in caso in cui le sorgenti sono eterogenee tra di essi quindi sotto in effetti a livello del dato fisicamente ci può essere praticamente qualsiasi cosa diciamo questo strato di mapping permette di riconciliare virtualmente quindi senza delle operazioni di etl o di spostamento del dato i dati che vengono dalle diverse sorgenti proprio quando si vanno a fare le interrogazioni e il sistema prende in input la query e restituisce tutte le informazioni quindi tutti i dati che sono rilevanti rispetto alla query andando a ragionare sia sull'ontologia che sui mapping vediamo un esempio di come funziona questa cosa assumiamo che il requisito quindi la query sia una cosa del tipo voglio sapere le informazioni in agrafiche delle persone che sono residenti nel comune di Roma al 31 dicembre del 2020 ho la mia ontologia che mi dice che ci sono le persone che possono essere ad esempio uomini donne possono essere padri madri eccetera e risiedono da qualche parte in un certo intervallo di tempo a fronte di questa richiesta ovviamente c'è sotto uno strato di dati quindi quelli che effettivamente voglio estrarre e uno strato di mapping che appunto collega questi due lo strato dell'ontologia e lo strato di mapping a fronte di queste richieste innanzitutto quello che fa il sistema BDM è capire che dietro alla richiesta di estrarre persone ci può essere un'informazione significativa anche relativa ai padri e relativa agli uomini possono esserci nei dati tanti posti diversi in cui ci sono informazioni relative a persone e è compito diciamo dello strato di mapping andare a permettere l'estrazione di dati da sorgenti diverse relativi a queste entità che sono coinvolte nella query e poi diciamo in risposta alla query questi dati vengono messi insieme tra di loro e si fornisce un set di dati che appunto è stato estratto ragionando sull'ontologia e andando a tirare fuori le informazioni da sorgenti diverse tra di loro qualità del dato lo accennavamo prima in effetti lo BDM l'ontology per il data management permette di effettuare in modo automatico verifiche di qualità di consistenza del dato rispetto all'ontologia quindi spesso quando si parla di qualità del dato ci si chiede ma i miei dati sono di buona qualità beh bisognerebbe chiedersi anche rispetto a cosa cioè misurare la qualità dei propri dati comporta in qualche modo necessariamente di avere un benchmark su cui confrontare in questo caso il benchmark è proprio l'ontologia cioè l'ontologia dice che nel dominio le cose funzionano in un certo modo ci sono determinate regole e quindi i dati che vanno ad afferire a questo dominio devono comportarsi in un certo modo e quindi questa tecnologia ci permette in qualche modo di garantire che la qualità dei dati sia tale da soddisfare le regole che sono nell'ontologia come avviene questo? Beh innanzitutto c'è una prima fase di estrazione automatica dall'ontologia dei vincoli che si possono interpretare come vincoli di qualità del dato questi in effetti sono gli assiomi dell'ontologia stessa e questi assiomi si possono automaticamente trasformare in query quindi in domande sull'ontologia ovvero tutti i carri per esempio sempre tornando al caso delle navi tutti i carri che contengono olio grezzo devono essere trasportati da navi di tipo panamax questo è un esempio di vincolo di assioma che si trova nell'ontologia e che il sistema di ragionamento è in grado di estrarre e di trasformare in una query questo viene in modo del tutto automatico quindi questa regola che abbiamo visto viene trasformata in una query da una query sull'ontologia a una query sui dati viene mandata automaticamente diciamo per la valutazione al database e vengono estratti quindi vengono prodotti i dati che in qualche modo violano questi vincoli quindi c'è questo meccanismo che è completamente automatico che permette di verificare quali sono e dove sono le violazioni delle regole di qualità del dato che sono presenti all'interno dell'ontologia altro diciamo altro caso di utilizzo di questa tecnica è quello che riguarda la preparazione del dato per analytics ci sono diversi strumenti sul mercato che permettono di fare analisi anche molto avanzate dei dati e lo BDM è in qualche modo un sistema che abilita questo tipo di analisi perché permette di trasformare i dati sottostanti o in graph dataset che quindi possono essere mandati ad applicazioni che si occupano principalmente di graph analytics di graph di visualization o graph TB oppure permette di estrarre dataset in forma tabellare e mandarli direttamente in pasto ai più comuni strumenti di BI di business intelligence che esistono sul mercato quali tableau oppure quali Power BI quindi lo BDM è un modo di preparare il dato e trasformarlo dal dato diciamo grezzo presente nel database in dei dataset che poi possono essere messi appunto a servizio di strumenti che permettono di fare analisi avanzate ultimo aspetto che vediamo è quello dell'open data e diciamo la risposta dell'OBDM alla necessità di pubblicare i dati in formato aperto è che l'ontologia diventa il mezzo per produrre annotare e ovviamente anche condividere il significato dei dati che vengono prodotti vediamo spesso che la produzione di la pubblicazione di open data o di link ed open data diciamo segue delle pipeline di produzione che sono spesso piuttosto elaborate anche magari sviluppate custom di diciamo di situazione in situazione invece con questo approccio si semplifica tutto perché la creazione di ciascun dataset viene fatta in modo del tutto automatico facendo semplicemente una query sull'ontologia il risultato della query è direttamente un dataset in formato rdf e quindi praticamente si si accorcia quasi completamente la pipeline di produzione del dataset e la si riduce a semplicemente una query sull'ontologia non solo si riescono anche a ottenere si ottengono diciamo open data di livello 5 quindi arricchiti semanticamente dai collegamenti all'ontologia che danno il significato del dato stesso e questo permette di capire e anche condividere in modo più efficace il significato del dato ed è possibile inoltre effettuare dei collegamenti semantici tra domini tra l'entità dell'ontologia del proprio dominio diciamo e quello dei vocabolari standard del V3C quindi un flusso di produzione e di pubblicazione dei dati estremamente semplice che in effetti si riduce a fare uno query sull'ontologia con sotto il sistema che tira fuori le informazioni e le trasforma in triple rdf allora diciamo abbiamo introdotto l'approccio on knowledge based data management e adesso però dobbiamo arrivare allo strumento diciamo che abilita questo tipo di tecnologia che si chiama Mastro in effetti Mastro è proprio il motore che sta dietro il BDM ed è un sistema di ragionamento automatico che fa diciamo una serie di cose però diciamo l'aspetto più importante è che permette di effettuare query sull'ontologia qui tramite query sparcono in effetti sull'ontologia e le rielabora ci ragiona e le trasforma in query SQL sui dati e permette inoltre come abbiamo appena visto di verificare in modo del tutto automatico la consistenza dei dati rispetto alle regole di qualità del dato che sono espresse dagli assiomi dell'ontologia stessa come funziona l'accesso al dato tramite mastro beh l'abbiamo detto si pongono delle query sull'ontologia quindi si formano il requisito informativo nei termini del linguaggio di business ad esempio vorrei sapere tutti i cargo che contengono olio grezzo e il nome della nave che li trasporta se vediamo questa piccola ontologia qui sulla destra nella slide questa questa esigenza informativa in effetti è una sorta di percorso sugli elementi dell'ontologia che quindi si può andare a tradurre in una query Sparkle che ha questa forma qui ed è una forma tecnica diciamo ma molto semplificata rispetto a quella di fare la stessa query direttamente sul dato nel database e qui vediamo un altro esempio di cosa significa accedere al dato tramite Mastro quindi con una query Sparkle piuttosto che accedere al dato in modo diretto questo era una query vera che abbiamo fatto in un progetto credo con il ministero delle finanze qualche anno fa qui si voleva estrarre tutti i mutui a tasso di interesse fisso in azzurro qui vediamo che la query Sparkle sull'ontologia è in effetti una query estremamente semplice chiede banalmente tutti tutti quegli oggetti X che sono di tipo mutuo e anche di tipo strumento a tasso fisso dall'altra parte vediamo cosa significa fare questa stessa query sulla base di dati qui ovviamente adesso non entro nel dettaglio ma è chiaro come non avendo una conoscenza approfondita di come i dati sono organizzati sarebbe assolutamente impossibile estrarre estrarre questa informazione la distanza tra queste due query in effetti è colmata dallo strato di mapping cioè è nel mapping delle varie entità del dominio sui dati nelle sorgenti che la complessità dell'organizzazione fisica del dato viene risolta e quindi il sistema sa che se si chiede un mutuo a tasso fisso di interesse dietro il collegamento garantito dal mapping ai dati che sono diciamo estratti tramite questa query SQL viene appunto fatto in modo del tutto automatico quindi diciamo c'è un nuovo modo di accedere al dato tramite master quindi tramite l'ontologia di stata management e qui vediamo diciamo quello che solitamente avviene quando ci si interfaccia con il sistema informativo tradizionale per estrarre delle informazioni il sistema informativo ti mette a disposizione delle diciamo delle query predefinite in qualche modo poi ci possono essere tanti modi in cui lo fa ma in effetti fa questo e quindi è possibile estrarre solo le informazioni che corrispondono a queste query predefinite un altro tipo di approccio è quello che avviene più magari in aziende più grandi in cui c'è un manager che deve prendere qualche decisione magari a livello strategico deve sapere delle cose per prendere queste decisioni quindi ha un'esigenza informativa e la va a ribaltare sull'esperto di T lui stesso non è in grado di accedere alle informazioni che gli servono quindi chiama l'esperto di T e lui è in grado di formulare ad esempio la query che abbiamo visto prima direttamente sulla base di dati e riesce a tirare fuori in effetti le informazioni richieste però tutto questo giro innanzitutto prende tempo perché insomma c'è un trasferimento diciamo di questa esigenza dal manager all'esperto di T e poi lui deve rielaborare la richiesta in termini di SQL e quindi comporta anche dei soldi attraverso un'antology based data management l'accesso al data è più diretto se vi ricordate una delle caratteristiche principali di questa tecnologia è proprio che permette di rendere molto più diretto ed efficace l'accesso all'informazione qui qualsiasi tipo di utente manager utente o esperto di T che sia può effettuare può esprimere appunto una query direttamente sull'ontologia e il sistema si occupa di farla diventare una query sui dati quindi con la possibilità di estrarre effettivamente tutte le informazioni richieste senza nessun tipo di costo aggiuntivo e senza senza diciamo dover aspettare per la risposta stessa da un punto di vista diciamo tecnico Mastro innanzitutto garantisce pieno supporto agli standard del semantic web l'ontologia possono essere espresse in in Aul2 che è il linguaggio standard dell'ontologia possono essere espresse anche in RDF quindi possono avere la forma più di un knowledge graph i mapping possono essere espressi o in diciamo nel formato proprietario di Mastro che è un formato diciamo basato su SQL SQL oppure in R2 RML che è in effetti il linguaggio standard di mapping del V3C e le query vengono espresse in Sparkle in effetti poi ci sono tanti modi diversi di arrivare a formulare una query Sparkle questo è più un problema di interfaccia però in effetti al sistema la query che arriva è appunto una query Sparkle e lo strato di dati sottostante come dicevo all'inizio in effetti può essere praticamente qualsiasi cosa può essere un DBMS commerciale quale Oracle quale SQL Server dp2 può essere un DBMS open source Postgres MySQL può essere un sistema di data federation tipo denodo può essere un'interfaccia verso dati che non sono nativamente in formato relazionale tipo Impala cloud era che permette di andare su dati HDFS insomma lo strato sottostante può essere qualsiasi cosa a patto che ci sia un'interfaccia a cui mandare una query SQL e fornisce uno strato di API proprietario con cui chiamare tutti i suoi servizi e appunto anche uno strato di servizi web per andare a erogare servizi verso diverse interfacce quindi fondamentalmente Mastro è il sistema di ragionamento che sta dietro dietro diciamo a tutto tutta la tecnologia dello BDM allora l'abbiamo accennato un po' velocemente qualche slide fa ma adesso vediamo più nel dettaglio come funziona effettivamente l'estrazione dei dati tramite Mastro quindi abbiamo detto che ci può essere un utente di qualsiasi tipo che potrebbe essere anche un'applicazione ad esempio ma formula una query ha un'esigenza informativa e quindi formula una query e la formula sull'ontologia quindi sull'entità di business il sistema quindi Mastro si occupa di trasformare quindi non tradurre ma di trasformare questa query in query SQL uno più query SQL a seconda della della forma della query sull'ontologia e lo fa fondamentalmente attraverso due step riformulando la query originale in base agli assiomi che sono nell'ontologia quindi c'è un primo step di riscrittura che prende la conoscenza espressa nell'ontologia quindi gli assiomi logici dell'ontologia ci ragiona sopra e fa in modo di riformulare la query originale in modo tale da appunto svilupparla utilizzando la logica che sta dietro l'ontologia e poi per ciascuna di queste query che sono state prodotte alla fine di questo primo step di riscrittura effettua un'ulteriore riscrittura in base ai mapping quindi in base all'entità dell'ontologia che sono coinvolte nelle query e sono mappate attraverso query SQL sui dati e quindi produce delle query SQL query SQL ripeto che possono essere anche più di una a seconda della forma della query originale queste query vengono mandate al database che si preoccupa di valutare e di restituire i risultati quindi qui il punto chiave da cogliere è che in effetti quello che fa master non è semplicemente una traduzione da Sparkle a SQL ma è un processo di ragionamento che considera tutta la logica che sta nell'ontologia e anche quella che sta nei mapping per andare a identificare tutti i dati che sono di interesse quindi che devono essere restituiti a fronte della query fatta dall'utente e abbiamo visto prima che lo strato di mapping in master può essere o appunto realizzato attraverso mapping R2RML che è il linguaggio standard del V3C per i mapping oppure nel suo formato proprietario e i mapping in master in effetti sono appunto in questo formato si dividono logicamente in due blocchi diversi diciamo c'è uno strato di viste che sono appunto delle query sequele ma virtuali sui dati e poi c'è uno strato che noi chiamiamo ontology predicate mapping quindi proprio mapping sull'entità sui predicati dell'ontologia che associano le query sequele sulle viste all'entità dell'ontologia stessa quindi questo questo diciamo doppio strato presente all'interno di mapping permette durante il processo di riscrittura di mastro un processo che si chiama query rewriting di effettuare anche una serie di ottimizzazioni adesso qui è un po' diciamo tecnica ma fondamentalmente quello che il messaggio da cogliere è che durante tutto questo processo di trasformazione della query da una query sparco sull'ontologia a una query SQL sulle basi dei dati ci sono anche delle ottimizzazioni che fanno sì che la forma finale della query sia in qualche modo la più semplice possibile questo è tutto in funzione di ottimizzare le performance del sistema da un punto di vista architetturale un sistema BDM quindi con al centro mastro ha questa forma abbiamo detto che ci sono c'è lo strato di dati che può essere eventualmente anche arricchito da un layer di data virtualization se i database sottostanti sono di natura diversa magari c'è un database un graph DB sotto è un database relazionale oppure magari ci sono dei dati in CSV insomma ci possono essere dati sotto che vengono messi a fattore comune da un sistema di data virtualization c'è l'ontologia o il knowledge graph al centro c'è questo strato di mapping e poi c'è mastro che permette di erogare una serie di servizi di data management quindi accesso al dato integrazione qualità produzione di dati in formato open e linked e permette anche una serie di servizi di esplorazione del dato quindi esplorazione dell'ontologia navigazione del knowledge graph ispezione dei metadati dell'ontologia che danno il significato dell'entità dell'ontologia e quindi dei dati sotto che afferiscono a questa entità e analisi di mapping oltre a mastro ci sono una serie di altri strumenti che sono in qualche modo orientati sia all'utente finale del sistema sia al designer dove per designer noi intendiamo chi costruisce l'ontologia e chi costruisce il mapping e li vediamo diciamo accoppiati in questa slide allo strato dell'architettura BDM a cui maggiormente afferiscono quindi dalla parte diciamo nello strato dei servizi c'è mastro stesso poi ci sono una serie di strumenti quindi monolith eddy e grafol che permettono adesso li vedremo nel dettaglio che permettono di costruire lo strato di mapping costruire l'ontologia e poi diciamo mettono a disposizione dell'utente finale tutti i servizi offerti da mastro stesso partiamo da monolith che è una piattaforma per la gestione di semantica enterprise knowledge graph o ontologie e diciamo svolge due funzioni fondamentali oltre ad essere diciamo l'interfaccia principale per tutti i servizi che mastro mette a disposizione ovvero permette di esplorare l'ontologia sia graficamente sia nella sua forma originale quindi Aulo RDF che sia permette di creare mapping quindi è un editor di mapping che permette quindi di costruire questi collegamenti tra l'ontologia e il dato e permette di interrogare i dati sottostanti attraverso un endpoint Sparkle e dall'altra parte invece è anche un sistema di gestione di enterprise knowledge graph perché permette di costruire questi knowledge graph attraverso i risultati delle query che sono diciamo prodotti da mastro quindi si permette di trasformare il dato da relazionale in graph data e si permette anche di integrare i dati che vengono dalle sorgenti mappate sull'ontologia eventualmente o anche con dataset linked open data la comunicazione diciamo monitor è un'applicazione client che utilizza le API REST quindi dei servizi web per interagire con il ragionatore con il mastro stesso quindi architetturalmente lo scenario è questo c'è il server di mastro che contiene al suo interno una serie di stanze di mastro stesso ciascuno con un'ontologia con demapping verso diverse sorgenti e c'è l'interazione attraverso chiamata risposta HTTP con il client stesso quindi diciamo un'architettura client server abbastanza classica e permette di gestire attraverso diciamo un unico server tante stanze diverse del ragionatore quindi puntare a tanti tante sorgenti di dati diverse ciascuna afferente alla sua ontologia tutta attraverso una stessa interfaccia e adesso andiamo più alla parte di design dell'ontologia e parliamo di EDDI che è un editor grafico per ontologie espressi in un linguaggio grafico particolare che si chiama Grafol e partiamo proprio da Grafol che è un linguaggio che è stato sviluppato da diciamo dal gruppo di ricerca che poi ha dato vita a Obedia Systems che ha come obiettivo quello di rappresentare in modo completamente grafico le ontologie quindi è diciamo una corrispondenza 1-1 con Aul 2 che è il linguaggio diciamo standard per le ontologie da un punto di vista grafico si rifà molto all'entità relazione ovviamente arricchito perché Aul è più ricco da un punto di vista espressivo dei diagrammi di entità relazione ma la sua caratteristica principale che è completamente privo di formule e diciamo per costruire le ontologie in questo linguaggio grafico esiste questo strumento che si chiama EDI che permette che innanzitutto è uno strumento distribuito con licenza open source quindi è diciamo è accessibile assolutamente a tutti permette di costruire le ontologie in questo formato grafico che poi diciamo possono essere esportate in Aul 2 mettendo a disposizione innanzitutto una serie di controlli sintattici in tempo reale quindi proprio mentre si sta disegnando che garantiscono che l'ontologia che si sta disegnando è corretta da un punto di vista sintattico rispetto ad Aul e anche ha diciamo al soliterno un motore di ragionamento che permette di evidenziare se ci sono anomalie da un punto di vista logico negli assiomi quindi magari contraddizioni che potrebbero dar vita a un'ontologia in qualche modo malformata e ha diciamo tutta una serie di facility di esportazione sia diciamo della parte diciamo di assiomi logici dell'ontologia sia dei metadati nei formati diciamo standard che permettono di poi interagire con altri strumenti quindi Aul oppure i metadati in formato Excel Graphoscape ha invece uno strumento interattivo di visualizzazione delle ontologie o espresse in diciamo o nativamente costruite in Graphos attraverso Eddy oppure anche magari ontologie Aul che permette appunto di dare diverse diverse layout quindi diverse rappresentazioni dell'ontologia se è stata prodotta in diciamo in linguaggio Graphos nella sua sintassi originale oppure in uno stile più simile alle R oppure proprio a Grapho come vediamo qui nelle immagini e quindi permette di esplorare e navigare l'ontologia stessa adesso noi stiamo sviluppando in effetti sopra a questo strumento anche uno strumento di costruzione proprio della query quindi ci sarà la possibilità di costruire la query in modo del tutto del tutto grafico e prima di chiudere volevo introdurre quanto tempo abbiamo più o meno ci siamo e giusto molto rapidamente una serie di casi d'uso che diciamo evidenziano le potenzialità di questa tecnologia partendo da un progetto che stiamo facendo con l'ISTAT quindi l'Istituto Nazionale di Statistica Italiano in cui stiamo costruendo un'ontologia del sistema integrato dei registri statistici con l'obiettivo di inanzitutto Censilia poi modellare e integrare i dati che afferiscono a tutti questi registri statistici quindi possono essere dati sull'individuo sul lavoro sul territorio italiano e si sta andando diciamo verso una reingenializzazione delle sorgenti di dati secondo proprio l'ontologia e contestualmente anche verso una standardizzazione dei concetti e dei modelli di business e quindi qui diciamo è un esempio di quello che stiamo facendo non entro troppo nel dettaglio se no ci mettiamo troppo per l'ACE abbiamo fatto un progetto in cui abbiamo costruito l'ontologia del parco veicolare italiano quindi diciamo l'ontologia degli automobili in Italia e della freschietà dell'auto con l'obiettivo di costruire un portale in cui pubblicare i dati statistici delle matricolazioni e delle demolizioni degli automobili in formato link e dopo e data quindi questo è stato fatto è stato costruito questo portale che viene alimentato con i dati proprio attraverso la tecnologia dello BDM abbiamo anche delle collaborazioni con aziende che occupano che diciamo si occupano del settore automotive in cui stiamo costruendo l'ontologia diciamo di queste realtà e una serie di interfacce per i product manager e i sales assistant per misurare la competitività in termini di vendite e di range sul mercato attraverso proprio l'estrazione dei dati sulle ontologie e abbiamo fatto un progetto con il MEF in cui abbiamo modellato l'ontologia del debito pubblico italiano e abbiamo costruito una piattaforma web per esplorare i dati appunto del debito pubblico attraverso accedendo al dato stesso attraverso l'ontologia e credo che ci siamo quindi adesso andiamo rapidamente sì ma possiamo andare a chiudere e innanzitutto grazie a tutti per l'attenzione vi lascio questi due recapiti che sono il mio personale indirizzo email oppure l'indirizzo info.bdsystem.com a cui fare riferimento per qualsiasi domanda grazie a tutti grazie Valerio bellissima presentazione vediamo se ci sono delle domande da sì ah ok abbiamo una domanda un attimo da live volevo qualche chiarimento su come operate la conciliazione fra informazioni che arrivano da diverse fonti che però potrebbero essere riferirsi alle stesse entità allora la riconciliazione dei dati che vengono da diverse fonti ma che afferiscono alle stesse entità viene gestita proprio nello strato di mapping cioè è possibile definire per una stessa entità dell'ontologia mapping diversi su sorgenti diverse in modo tale che l'interrogazione di quell'entità estrae i dati da tutte queste sorgenti e lo fa riconciliando tra di loro diciamo il il dato stesso praticamente quello che quello che si fa nello strato di mapping da un punto di vista tecnico è partendo dal dato che è presente nel database costruire degli oggetti che sono istanza dell'ontologia ok quindi facciamo l'esempio dell'ontologia delle persone ci saranno nei database varie rappresentazioni magari delle persone con dei loro codici identificativi la query sull'ontologia deve restituire tutte le persone lo deve fare in modo tale che gli oggetti siano costruiti in modo omogeneo quindi si devono andare estratte da ciascun da ciascun diciamo database diverso il dato che permette di identificare la persona poi ovviamente ci sono anche problemi di entity reconciliation tra il dato che sta diciamo in un database e quello dell'altro e lì si possono utilizzare delle tecniche che si possono basare o sull'identificatore dell'oggetto stesso oppure su altri parametri quindi magari si cercano delle somiglianze negli altri dati che sono riferiti a un certo oggetto per esempio nel caso delle persone si può fare riferimento al nome al cognome all'indirizzo cioè diciamo se manca un identificatore comune dell'oggetto nelle varie sorgenti si va a esplorare quali possono essere i dati che permettono comunque di ricostruire l'identità dell'oggetto stesso e tutto questo viene fatto proprio nello strato di mapping scusate approfitto anch'io perché è una domanda sempre attinente a questo aspetto allora quindi per ciascun caso d'uso i primi due passaggi sicuramente da fare sono la definizione dell'ontologia tramite ad esempio Grafol e poi manualmente andare a fare il mapping il writing perfetto mi sto chiedendo nel caso in cui il nostro insieme di silos chiamiamoli così sia poliglotta quindi non solo database relazionali ma magari diverse nello strato di data virtualization devo fare un'ulteriore trasformazione perché mi sembra aver capito che dopo l'analisi del mapping writing viene tirata fuori una query SQL quindi allora in casi come questi in effetti la natura diversa del dato deve essere resa omogenea attraverso appunto il virtualizzatore che può essere Denodo Dremio insomma ci sono diversi strumenti questi strumenti espongono comunque uno schema logico del dato sottostante che è uno schema virtuale e quindi in questi casi quello che si fa è si va a fare la mappatura sullo schema logico non sullo strato fisico del dato poi è lo strato di data virtualization che prende la query che viene prodotta sul suo strato logico e lo manda diciamo allo strato fisico del dato quindi in qualche modo si sposta la logica dal mappare il dato fisico a mappare il dato che è sposto logicamente in modo virtuale dallo strumento di data virtualization quello lo fa il data virtualizer però lui espone i dati in modo tale da poter interrogare in SQL poi lui si occupa diciamo di fare la trasformazione esatto prego vediamo da casa allora è possibile importare e riutilizzare ontologie già disponibili pubbliche? certo sì sì assolutamente se la domanda è se è possibile importarle magari dentro eddi per avere una rappresentazione grafo la risposta è sì è possibile importarle direttamente mandarle direttamente in pasto a mastro quindi sì assolutamente sì diciamo da un punto di vista di processo si può partire da zero quindi ci si costruisce un'ontologia si prende un'ontologia già preesistente e magari la si arricchisce perché si va a fare un'analisi del dominio e si trovano delle peculiarità che vanno trattate singolarmente oppure si può utilizzare un'ontologia già preesistente sì sì non c'è nessun tipo di limite un'altra qual è il costo di traduzione del layer del layer da Sparkle sì quello insomma allora il costo allora il costo di traduzione a runtime è zero nel senso che viene fatto in automatico c'è il costo di costruzione dei mapping cioè la distanza tra l'ontologia e i dati nella loro organizzazione fisica viene trattata dai mapping chiaramente più è ampia questa distanza cioè meno i dati sono organizzati fisicamente in modo tale da riflettere alla realtà perché l'ontologia ti dice come è fatto il mondo reale in un certo dominio i dati spesso non fanno questo perché magari sono stati diciamo gestiti in modo tale da ottimizzare le performance di tante applicazioni diverse quindi ci sono ridondanze quindi ci sono processi insomma spesso si hanno situazioni di organizzazione fisica del dato che può essere distante dall'ontologia il costo è a monte diciamo si fa un investimento di riconciliazione della struttura fisica del dato con l'entità dell'ontologia fatto quello poi l'accesso diciamo è diretto quindi non c'è nessun costo a run time diciamo allora l'ultima domanda è possibile esportare il mapping? sì 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 certo allora come dicevo noi preferiamo una un formato di mapping che è fondamentalmente basato tutto su SQL per diciamo per renderlo più facilmente fruibile in quei contesti in cui c'è un forte background SQL nei designer che è quello che si trova tipicamente nell'azienda lo standard V3C di mapping R2RML e Mastro è in grado di operare sia con l'uno che con l'altro e anche di diciamo tradurre l'uno nell'altro quindi non c'è anche lì non ci sono particolari particolari problemi perfetto grazie l'ultima domanda ultima curiosità è veramente attraente quel linguaggio grafico graffola no? perché rende veramente per una persona insomma sì molto facile definire delle 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 ontologie quello che mi chiedevo è ma permette per esempio anche la possibilità di costruire delle guerri ontologiche perché magari ci sono persone che non vogliono neanche avvicinarsi a Sparco al di là della distanza sì allora giusto una premessa alla domanda noi abbiamo abbiamo sviluppato Grafol sulla scorta delle prime esperienze che abbiamo fatto all'epoca eravamo ancora diciamo un gruppo di ricerca di sapienza con alcune sperimentazioni e ci siamo resi conto che la fase di disegno dell'ontologia è una fase di forte interazione con l'esperto del dominio l'esperto del dominio che nove volte su dieci non sa assolutamente niente di tutto quello che è il semantic web men che meno delle ontologie e quindi non solo devi diciamo capire da lui quello che ti sta raccontando cioè la storia del dominio ma devi essere in grado tramite proprio uno strumento di fargli vedere quello che è modellato per capire se è corretto e non puoi farlo in aula non funziona lui non è in grado di capire quello che stai dicendo lui devi far vedere un diagramma ci sono tanti approcci che partendo da un aula danno una rappresentazione grafica e quindi più semplice noi abbiamo preferito invece costruire uno strumento che ci permette direttamente di disegnare fondamentalmente in aula e questo ci ha molto agevolato poi nel tempo abbiamo quindi fondamentalmente questo è di ci permette di costruire le ontologie grafol partendo da zero oppure partendo da da aula insomma abbiamo sviluppato per grafol che è un sistema che è diciamo è il viewer per le ontologie è l'altro lato della medaglia quello che noi facciamo vedere agli esperti di dominio agli utenti finali che devono interagire con l'ontologia e grafol che permette di visualizzare l'ontologia innanzitutto l'ontologia può anche essere espressa in aula lui non fa una rappresentazione nella sintassi grafol ma fa direttamente vedere il grafo dell'ontologia come vediamo qui nell'esempio e permette appunto di vedere l'ontologia sia nelle sintassi grafol in una sintassi più simile all'R che quindi è più semplificata come rappresentazione e adesso proprio stiamo sviluppando sopra diciamo a GravelScape quindi sopra al viewer un sistema di costruzione grafica della query quindi l'idea è permettere di tracciare dei percorsi che costruiscono il corpo della query e poi di definire la testa della query stessa quindi vogliamo più possibile dare degli strumenti grafici che permettono di rendere più facile chiaramente l'interazione con chi non ha necessariamente un background di questo tipo grazie e allora se non ci sono altre domande ringraziamo ancora Valerio grazie mille grazie per l'attenzione e grazie a tutti che ci hanno seguito da casa e da in presenza ci vediamo alla prossima grazie mille alla prossima grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti